Il lessico del rischio idrogeologico si è arricchito di neologismi, cioè parole nuove e inedite, che ritroviamo sempre più spesso all'interno delle cronache legate alle alluvioni e alle frane. La prima di queste è tombatura e si riferisce alla copertura dell'area di scorrimento di un corso d'acqua attraverso strutture in cemento o in calcestruzzo. Queste ultime, è bene ricordarlo, sono spesso le fondamenta su cui poggiano gli asfalti delle strade che ogni giorno percorriamo e i pilastri degli edifici in cui viviamo e che frequentiamo. Si stima che negli ultimi due secoli in Italia siano stati oltre 12.000 i chilometri di corsi d'acqua tombati, spesso con una pericolosissima riduzione della portata dei letti. Ma qual è l'utilità di tombare fiumi, torrenti e rii? Nell'Ottocento e ancora agli inizi del Novecento la ragione era per lo più sanitaria. Questi corsi d'acqua infatti nei tratti urbani si trasformavano in vere e proprie fogne e discariche a cielo aperto, fonti di cattivi odori ma soprattutto causa della diffusione di epidemie. A questo proposito vi leggo un articolo tratto da Il Pensiero di Sanremo e datato 11 settembre 1904 che illustra proprio lo stato di salute del torrente San Francesco a Sanremo. Le immondizie raccolte nelle case e per le strade della città alta vengono dai privati e dagli spazzini per disposizione dell'autorità municipale gettate dal muro che fiancheggia la strada delle canai nel sottostante torrente San Francesco. Quantunque una china rapidissima permetta alla maggior parte delle immondezze di scendere sino al torrente un'altra parte composta di materie in putrefazione resta lungo il percorso a far bella mostra di sé ai forestieri e ai cittadini che salgono dal rondò Marsaglia alla Madonna della Costa e a emanare non troppo soavi profumi in barba le disposizioni igieniche. E se poi tutto fosse qui non ci sarebbe troppo da dire ma altro guaio è che i rifiuti scesi nel torrente vengono trasportati al mare. A cavallo tra il XIX e il XX secolo e ancora tra gli anni 60 e 80 del 900 le tombature risposero invece alle esigenze di una crescente urbanizzazione al bisogno di spazi edificabili per supportare il boom economico e quello demografico ad esso legato. Grazie ad alcune foto scattate a fine anni 60 abbiamo la possibilità di rianalizzare passo passo i lavori che hanno interessato il torrente San Romolo a Sanremo. In particolar modo vedremo come su alcune delle sue parti tombate siano sorti quartieri e arterie fondamentali per la viabilità cittadina. In questi primissimi scatti il torrente San Romolo è immortalato all'altezza del cosiddetto Ponte della Rocca in un contesto ancora per lo più rurale. Uno degli interventi preliminari o comunque complementari alla tombatura è lo sbancamento ai lati del letto ovvero l'asportazione di roccia e terra al fine di creare nuovi spazi edificabili. Ma ecco nel giugno del 1969 cosa rimane di questo ponte inglobato dalla tombatura e dalle sue intelaiature di ferro e cemento. Il completamento dell'opera porta alla creazione di via Pietro Agosti oggi via d'accesso e di deflusso fondamentale per l'Aurelia Bis e alla definizione di Piazza Eroi così come la conosciamo.